ciao a tutti sono finite le vacanze spero che sia andato tutto bene spero che molti di voi siano ancora in vacanza io sono già rientrato non ho ancora risolto i miei problemini ma arrivo con un video che è una bomba perché finalmente l'avete già visto dal titolo posso presentarvi in anteprima direi quasi mondiale il nuovo sonoff ns panel su internet c'erano già dei rumors era trapelata qualche foto qualche caratteristica ma adesso togliamo tutti gli equivoci mettiamo a tacere tutte le chiacchiere perché ve lo faccio vedere veramente dal vivo ce l'ho già da un po' ho già avuto modo di testarlo di apprezzarlo ragazzi guardatevi tutto il video perché è un prodotto che veramente una bomba ero contentissimo quando ho iniziato a testarlo quindi non perdiamo tempo andiamo subito a vederlo ma prima di questo mi raccomando iscrivetevi al canale ci vanno due secondi e vi fareste un grosso grosso favore partiamo con lo spacchettamento e poi lo guardiamo per bene molto bene dhl direttamente da shenzhen anteprima mondiale sonoff smart shen wall switch compatibile con google compatibile con assistente di amazon supporto e winink il nostro ns panel versione europea dunque controllo remoto funzione di gestione dei timer controllo vocale controllo condivisibile scene smart termostato possibilità di aggiungere widget e controllo completamente touch in confezione troviamo l'ns panel solito controllo qualità sonoff due viti per il fissaggio che vedremo più avanti il nostro dispositivo è un manuale manuale anche in italiano diversamente dagli altri dispositivi ci dà una piccola panoramica dei comandi quindi facendo uno swipe verso il basso andremo a impostare luminosità e tempo di standby scorrendo verso sinistra andremo a modificare la temperatura scorrendo verso destra potremo andare a gestire widget eccolo qui ragazzi sembra di avere in mano un piccolo gioiellino veramente molto molto bello plastica grigia molto molto scura qui sotto abbiamo vedete il sensore di temperatura sul lato sinistro niente lato superiore niente lato destro solo il logo sonoff lui verrà montato così abbiamo il display touch e due grossi pulsantoni posteriormente abbiamo questo alloggiamento che attenzione è per scatola europea ma non 503 come connessioni abbiamo primo morsetto neutro in ingresso secondo morsetto linea in ingresso e poi abbiamo due uscite due linee di uscita come altri dispositivi della gamma per pilotare due luci o comunque due carichi morsettiera protetta da uno sportellino una volta rimosso avremo accesso alle viti per aprirlo è necessario effettuare una leggera pressione sulla parte inferiore e una volta aperta avremo solamente il telaio da fissare con due viti con una freccia che indica il verso verso l'alto tutto il resto del dispositivo si connette tramite questo connettore a 8 pin questo prodotto viene distribuito in due versioni questa qui che l'europea e l'americana che ha esattamente la forma di una 503 ma come succede con le placche tx è fatta per stare in verticale quindi a disposizione abbiamo questo e dobbiamo montarlo qui ok come vi ho fatto vedere non entra nella 503 dunque se avete le scatole quelle quadrate con i due fori laterali potrebbe entrare e montare io non ne avevo a disposizione perché non ne vedo da un sacco di tempo ma magari in qualche vecchio impianto di fortuna potrebbe anche montare facciamo conto di non aver parlato di questo stiamo alle odierne 503 e cerchiamo di risolvere il problema ora la soluzione più semplice che vi consiglio di attuare e procurarvi un coperchio cieco questi servono a tenere chiuse le scatole 503 vuote normalmente sono tutti bianchi quindi il limite potreste anche dargli una verniciata all'occorrenza praticare un foro qui utile a ospitare questa forma e presentarlo poi in questo modo mettendo i due parker che lo tengono qui fermo tanto non ha un grosso sforzo da supportare l'unica cosa è che rimarrebbero leggermente a vista i due fori per il fissaggio sulla 503 oppure grazie alla stampa 3d e un sacco di prove disegni esperimenti sono arrivato a produrre questo adattatore tra l'altro ho trovato questo filamento pla della eriwan che è un nero ma brillantinato che produce questo effetto nero ma metallizzato che sta molto bene con il grigio con cui hanno realizzato l'ns panel come funziona questo set è molto semplice queste piccole staffette quadrate servono ad ospitare da vite per il fissaggio sulla 503 in questa posizione la staffetta così montata resterà completamente a filo e consentirà poi di avere l'interasse interno per fissare l'ns panel la staffetta sul retro ho pensato di realizzare una sede per un dado da tre che basterà incollare con un pochettino di colla 21 quella che uso sempre per poter poi infilare una vite da tre che andrà a fissare il telaio dell'ns panel sull'adattatore e l'adattatore verrà montato sulla scatola rimarrà un risultato finale di questo tipo che non è niente niente male ho previsto tra l'altro delle asole perché in caso di scatola murata non perfettamente dritta abbiamo un po di gioco per trovare la posizione corretta queste qua se non avete modo di produrle le volete vi piacciono ve le posso anche fornire io chiaramente è una stampa 3d quindi si vedranno tutte le righe classiche della stampa 3d ho fatto una leggera smussatura anche qua si vedono le righe però insomma per essere un prototipo penso di aver risolto abbastanza bene il problema ma ripeto con un po di ingegno potete sfruttare un coperchio cieco o addirittura usare un vostro telaio con tre tappi della vostra serie cercare di adattarlo con un po di fai da te e fissare l'ns panel direttamente alla vostra serie perfetto ora che abbiamo visto un po tutto lo colleghiamo lo accendiamo e facciamo la prima configurazione e ne vedrete delle belle ora ho collegato un neutro diretto in ingresso una linea diretta in ingresso lo accendiamo e vediamo di fare la prima configurazione ok questa è la schermata di avvio quindi appena si avvia viene scritto di aggiungere il device con il pairing in modalità bluetooth quindi vediamo insieme come accoppiarlo apriamo la nostra app e link andiamo ad aggiungere un dispositivo ma in questa schermata anziché il solito accoppiamento rapido o modalità compatibile usiamo l'accoppiamento bluetooth quindi premiamo dice di mettere il dispositivo in condizione di pairing bluetooth ma lui già nativamente è in questa condizione barriamo qua l'opzione che dice indicatore lampeggia correttamente andiamo avanti ora fa una ricerca dei dispositivi bluetooth ovviamente dovete avere il bluetooth attivo sul vostro smartphone vedete che trova un dispositivo che si chiama ck 1 0 eccetera eccetera facciamo connetti dopo essersi connesso con il bluetooth del dispositivo viene cercata la nostra rete wifi da 2,4 ghz io so che è questa la seleziona lui mi prende già la password in automatico perché è una connessione già impostata nel we link e la salvo a questo punto lui fa la ricerca del dispositivo all'interno della rete vedete che l'ha trovato velocissimamente non ho dovuto neanche accelerare il video e viene anche già trovato dall'assistente di amazon dispositivo aggiunto con successo lo rinomino come ns panel come stanza lo metto nell'alloggio completato e vedete che me lo aggiunge qua il dispositivo viene già con l'anteprima diciamo della sua forma come tutti gli altri dispositivi e lui in questo momento è regolarmente connesso vedete che mi dà già l'orario sincronizzato con il telefono mi dà le previsioni in tempo reale della zona in cui siamo adesso andiamo a vedere un po di impostazioni allora apriamo il nostro ns panel vedete che appena apriamo l'interfaccia troviamo subito la temperatura rilevata all'interno del locale i due canali da comandare separatamente o simultaneamente abbiamo poi la funzione termostato e tutte le varie programmazioni diamo prima un'occhiata alle impostazioni nome versione questo qui è già un aggiornamento perché era arrivato con la versione 100 avevo già trovato un firmware di aggiornamento la 101 la posizione la condivisione tutti i soliti comandi dei sono off abbiamo lo stato d'accensione che riguarda semplicemente lo stato dei due canali perché vi ricordo che questi due canali l out 1 e l out 2 sono semplicemente due fasi di uscita come un normalissimo sono off gestite sia dall'app che dai due pulsanti sotto il touch quindi lo stato d'accensione riguarda lo stato delle due uscite quando va via corrente io come al solito vi ricordo di impostare sempre ultimo stato lo salviamo e lo impostiamo anche sul secondo canale abbiamo poi tutte le varie impostazioni di inching separate per i due canali l'interblocco allora l'interblocco è una funzione molto interessante che viene implementata anche su questo dispositivo cosa serve serve a non azionare contemporaneamente entrambi i relais a bordo con la funzione interblocco abilitata se io ho acceso il primo canale non posso accendere il secondo se vado ad accendere il secondo mi spegne il primo questa qua è la funzione interblocco quando attiviamo l'interblocco nell'applicazione ci ricorda tutte le varie caratteristiche di questa modalità ma soprattutto ci ricorda che i timer gli inching eccetera non saranno disponibili l'unità di temperatura è quella che andrà ad utilizzare il termostato quindi in gradi fahrenheit o in gradi centigradi i widget che cosa sono i widget il touch in modalità home se scorriamo verso destra qua ci metterà una scorciatoia con dei pulsanti per gestire tutti i nostri dispositivi sono off installati la stessa cosa che fa l'app we link quando andiamo a mettere i widget sulla schermata home dello smartphone quindi ora qua non ce n'è nessuno se io vado ad aggiungere un widget che può essere ad esempio led cucina e salvo lui sincronizza me lo mette alla posizione 1 e automaticamente lo troveremo tra le scorciatoie se facciamo uno swipe verso sinistra vedete e da qui abbiamo il controllo diretto per ad esempio in questo caso i led della cucina se scorriamo a sinistra abbiamo le funzioni del termostato che anche in questo caso non sono ancora attive perché bisogna prima attivarle nell'app finiamo un attimo di dare un'occhiata al menu delle impostazioni in impostazione schermo possiamo andare a abilitare o disabilitare risparmio energetico del display se ad esempio lo abilitiamo adesso nelle 24 ore lui dopo un tempo che viene impostato qua nel touch andrà in modalità risparmio energetico se prendiamo il nostro ns panel in mano e tiriamo giù da questo cursore possiamo modificare la luminosità del display e possiamo impostare il tempo entro il quale dovrà ridursi la luminosità del display abbiamo come opzione un minuto due minuti 5 minuti o 10 minuti posizione serve a selezionare la zona dove è installato l'ns panel per avere la previsione meto nella home corretta basta semplicemente scegliere seleziona città lui automaticamente andrà ad abilitare il gps dello smartphone per trovare la nostra posizione ho notato che in questo caso la mappa di google viene aperta con uno zoom enorme quindi basta fare un pinch all'interno per ridurre la mappa ma vedete che ha già identificato la mia posizione quindi andrò semplicemente a cercare il mio pallino intanto vedete che mi è andato in risparmio energetico si è completamente spento cercherò il mio pallino qui a san benigno canavese lui prenderà il punto lo salvo e lui mi ha selezionato la città corretta ora ad esempio io vado a disabilitare il risparmio energetico e null'altro invece nella schermata home adesso disabilitiamo un attimo le uscite oltre alla temperatura che intanto sale perché qui fa molto caldo andiamo a vedere come gestire il termostato che è molto importante quindi cliccando qui sotto a sinistra sul termostato avremo innanzitutto la richiesta di quale dispositivo deve andare a controllare il termostato perché il sensore di temperatura integrato serve a farlo lavorare come un vero e proprio termostato sia in modalità estate che in modalità inverno quindi lui in base alla temperatura che andiamo a impostare farà abilitare quindi farà accendere o spegnere uno dei dispositivi sonoff che abbiamo installato nella nostra app ewe link quindi potrebbe essere un normalissimo sonoff mini modificato magari a contatto pulito che mi fa partire la caldaia io in questo caso non ce l'ho ma possiamo prendere un qualsiasi dispositivo come ad esempio il led cucina e lui lo memorizza allora a questo punto mi fa andare avanti mi chiede se sto facendo una funzione di riscaldamento o di raffreddamento ora essendo la temperatura molto alta conviene per farvi vedere come funziona lo metto in raffreddamento ed ho completato in questo modo si attiva la modalità termostato vedete che è scura perché è spento e anche sul mio ns panel se io scorro a sinistra mi ritrovo tutta la funzionalità del termostato quindi avremo la temperatura impostata più e meno il manuale l'automatico e lo slide per abilitare o disabilitare la funzione termostato quindi se attivo la funzione termostato da qui automaticamente me la vado ad abilitare anche sul mio ns panel da qui posso gestire la temperatura in manuale posso usare anche i tasti più e meno posso scegliere se avere il manuale o l'automatico per l'automatico bisogna fare la programmazione dentro l'app e we link e come lavora lavora in questo modo lui ad esempio sta percependo una temperatura di 32 gradi io in modalità raffrescamento gli dico che ne voglio avere 23 quindi lui cosa sta facendo in questo momento siccome ne ho 32 e ne chiedo 23 facciamo 20 lui in questo modo mi va ad abilitare per forza di cose quel sonoff che io ho impostato dentro l'app e we link se io esco dall'ns panel vedete che il mio led cucina è acceso se io ad esempio vado a spegnerlo non sto velocizzando il video dopo qualche secondo andrà comunque ad attivarlo perché rileva una temperatura più alta di quella che è impostata quindi mi fa partire in questo caso il dispositivo che deve fare il raffrescamento ok questo è solo un esempio per farvi capire l'interazione che c'è fra il termostato integrato e qualsiasi dispositivo installato nell'app e we link ma voi fate conto di avere ad esempio un sonoff collegato a un fan coil a un circolatore di acqua fredda in questo modo quando la temperatura sale troppo lui vi fa partire un elettrovalvola magari o comunque vi abilita il fan coil che fa andare l'acqua fredda nel radiatore e vi rinfresca l'ambiente stessa cosa la funzione che fa il classico termostato a cursori che avete a casa o digitale andiamo a escluderlo completamente montiamo un sonoff con contatto pulito se non ne avete non sapete come fare cercate nel mio video perché vi ho già fatto vedere come realizzarlo un sonoff a contatto pulito collegato al contatto della caldaia o eventualmente all'elettrovalvola di zona e voi con il termostato integrato che tra l'altro è bellissimo riuscite a gestire tutto il riscaldamento di casa vostra se io nel termostato vado qui sopra nelle impostazioni come tipo di dispositivo metto riscaldamento che quello che potremmo usare per la maggiore e lo salvo lui lavorerà esattamente al contrario se in questo caso mi sta rilevando 32 gradi io per avere un azionamento dell'espositivo devo impostare ovviamente una temperatura più alta lui arriva solo fino a 31 quindi non riesco a farlo funzionare per quello ho simulato un'opzione di raffrescamento ma funziona nello stesso modo lavorerà come il classico termostato che avete a casa vostra quando scenderà al di sotto della temperatura impostata abiliterà l'uscita del sonoff collegato alla caldaia che farà partire il vostro riscaldamento tutto gestibile sia da app che facendo lo slide verso sinistra questa è una cosa molto 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 comoda praticamente andiamo a escludere completamente tutti i vari termostati che mi avete anche chiesto spesso di recensire ma che non mi davano grosse soddisfazioni finalmente abbiamo un dispositivo della gamma sonoff che va anche a fare la funzione di termostato oltre a tutto il resto lo fa bene ed è molto molto bello spegniamo la funzione termostato abbiamo poi qua sotto tutte le varie programmazioni quindi aggiungere delle accensioni dopo un determinato tempo ogni volta che andiamo a scegliere una programmazione possiamo differenziare i due canali abbiamo la funzione contro la rovescia e abbiamo la funzione timer ciclico quindi alla fine a bordo cosa abbiamo abbiamo due uscite da gestire sia con i pulsanti che con l'app ma attenzione se dovete installarlo in un punto dove non avete la comodità di usare le sue due uscite per determinate luci non è assolutamente un problema possiamo benissimo montarlo in un punto dove non c'è nessuna connessione e tramite le scene di ewe link andare a comandare degli altri dispositivi sonoff azionandoli semplicemente da questi due pulsanti ora in modo veloce vi faccio vedere come gestire le scene per il nostro ns panel ma per qualsiasi dispositivo che avete installato nella vostra app ewe link apriamo appunto l'app ewe link qui sotto in basso abbiamo la seconda icona che scena vedete che io ho già delle scene impostate ne aggiungiamo semplicemente una quindi qua in alto tasto più vedete che dice se questo avviene poi esegui come si configura semplicemente così andiamo a prendere aggiungi scegliamo dispositivo intelligente e prendiamo il nostro ns panel noi possiamo lavorare sia con la temperatura quindi quando lui raggiunge una temperatura maggiore o uguale di un certo valore oppure temperatura minore o uguale di un certo valore può andare a determinare un'azione questo è un discorso che va oltre quello del termostato integrato collegato ad un dispositivo oppure abbiamo semplicemente la gestione del canale 1 e del canale 2 se dove lo installate non avete la possibilità di collegare fisicamente le due uscite delle luci e magari queste luci le avete già collegate ad un altro sonoff si fa in questo modo si prende il canale 1 e gli si dice che quando il canale 1 è on salvando vedete se ns panel canale 1 on allora poi andiamo a prendere un altro dispositivo che può essere ad esempio il mio led taverna il canale 1 on è salvo vedete ho creato questa condizione cioè se il canale 1 dell'ns panel va on quindi viene acceso anche il led taverna canale 1 va in on quindi abbiamo creato una scena dove io con il comando fisico dell'ns panel anche se non è collegato a nulla vado a pilotare una luce dall'altra parte della casa perché è collegata ad un altro sonoff la stessa cosa dovrò farla creando una scena per lo spegnimento questo è un modo molto molto semplice che tante volte non viene contemplato perché perché non lo si conosce fondamentalmente molto molto comodo per gestire varie situazioni varie scene senza avere un collegamento fisico tra i dispositivi quindi abbiamo visto a grandi linee tutte le varie funzioni che ha secondo me oltre ad essere molto molto bello e molto molto completo sia per le due uscite che hanno messo a bordo ma soprattutto per la gestione del termostato quindi secondo me andremo ad avere un dispositivo che centralizza tutti i comandi dei nostri sonoff che è una cosa molto molto comoda e importante ma soprattutto rimane anche molto bello da usare come termostato ambiente ora che abbiamo visto tutto vado a montarlo facendovi anche vedere come si installa l'adattatore che ho prodotto nel mio caso userò una 503 vuota perché io normalmente l'ammetto come predisposizione per ampliamenti dell'antifurto in questo caso ho portato un 220 volt una fase un neutro dalla scatola inferiore essendo comunicanti in modo da predisporre l'alimentazione procediamo ora a fissare la prima staffetta sulla 503 quella di sinistra avvitandola fino in fondo e cercando di tenerla centrata stessa cosa facciamo con la staffetta di destra a questo punto possiamo preparare i fili per il collegamento mi raccomando prima staccate corrente mi raccomando tra il sonoff e il muro dovete prima mettere la placca con il cavo in mezzo procediamo quindi al collegamento del neutro e della fase dirette e andiamo in seguito a mettere il coperchietto di protezione una volta fatto questo ricordatevi di usare come riferimento la freccia verso l'alto appoggiamo la nostra placca al nostro adattatore sulla 503 facciamo entrare bene i cavi e iniziamo a presentare il telaio del sonoff imbocchiamo prima una vita da una parte poi una vita dall'altra senza avvitarle con troppa forza fino in fondo giusto per tenerlo in posizione per regolarlo nella maniera ottimale una volta trovata la quadra la posizione corretta potete utilizzare anche una livella si può procedere con il serraggio definitivo mi raccomando senza esagerare perché si tratta sempre di pla stampato in 3d appoggiamo quindi il nostro sonoff sul connettore e voilà bello che montato gli ultimi accorgimenti per tenerlo proprio dito perfetto se siete pignoli come me e otterrete un risultato strabiliante ora potete dare corrente il sonoff si riavvia all'inizio noterete che l'ora non è sincronizzata come anche il meteo questo perché il router si deve riallineare e il wifi si deve riconnettere a tutti i dispositivi una volta connesso vedrete che abbiamo la situazione in meteo in tempo reale l'ora corretta e la temperatura ambiente i due tasti continuano a funzionare regolarmente per accendere le luci collegate fisicamente o tramite scena il modo per capire se regolarmente il connesso oltre al meteo è il simbolo del wifi l'ora insomma quando trovate tutto coordinato vuol dire che è regolarmente connesso alla vostra app e we link da qui scorrendo poi il nostro menu possiamo avere accesso direttamente alle funzioni del termostato certamente rimane molto molto bello da vedere ma ragazzi ha anche un'ottima precisione e un funzionamento affidabile lo swap dall'altra parte ci permette di avere i collegamenti a tutti i nostri widget che segnalano anche lo stato del dispositivo e potrete aggiungerne quante ne avrete bisogno regolazione del screensaver e tutto quello che abbiamo visto nel video dispositivo fantastico bene vi faccio vedere quello che riguarda l'integrazione con i comandi vocali i comandi sono semplicissimi al momento se io apro l'app di amazon vedete che tra tutti i vari dispositivi trovo l'ns panel come voce principale ns panel outlet 1 e outlet 2 ns panel quello generale se lo accendo mi accende entrambi i canali o diversamente posso dare il comando dell'uscita 1 dell'uscita 2 chiaramente il comando vocale da dare sarebbe molto complesso perché bisognerebbe dire accendi ns panel outlet 1 ma quando ci troviamo con i dispositivi della gamma sonoff che hanno più uscite a riconoscerli in questo modo che non è comodo da pronunciare basta semplicemente creare una routine dove andiamo a dare un comando vocale come piace a noi per accendere e spegnere quella determinata uscita del dispositivo attualmente non abbiamo la possibilità di dare un controllo per quanto riguarda la temperatura su questo dispositivo ma vi ricordo che il mio è uno dei primi prodotti non so se implementeranno altri comandi vocali in futuro ma al momento in questo caso con l'assistente di amazon possiamo solo controllare le due uscite bene l'abbiamo visto mi sono leggermente dilungato perché di cose da vedere ce ne erano veramente tante ma ragazzi abbiamo un dispositivo che innanzitutto secondo me in assoluto è bellissimo da vedere è un oggetto di arredo è lì montato ha una bellissima grafica semplice e minimale ma molto molto bello e soprattutto è molto funzionale perché oltre ad avere due uscite controllabili separatamente abbiamo il discorso che questo dispositivo finalmente è un vero e proprio termostato ambiente quindi non avremmo più bisogno di cercare altri prodotti a usare altre app che magari non sono molto stabili che questo funziona benissimo è tutto integrato nell'ecosistema e we link e secondo me ragazzi è tanta tanta roba il discorso dei widget diventa fantastico perché se non avete l'assistente vocale non avete la possibilità di andare a premere i pulsanti tradizionali o non avete il telefono sotto mano voi accedete al vostro ns panel fate semplicemente scorrere il dito arrivate nella schermata dei widget e accendete e spegnete quello che più vi pare secondo me ragazzi è un dispositivo che ha un potenziale veramente veramente allucinante questa è la prima versione il mio è un prototipo uno dei primi ma comunque funziona perfettamente ha realizzato bene ottime finiture ma ora vi starete chiedendo quanto costa dove comprarlo quando arriva dunque attualmente l'ns panel potete prenotarlo lasciando la vostra email a questo indirizzo che vi metto in sovrappressione lo metto anche in descrizione si può ottenere una prenotazione anticipata e uno sconto tramite kickstarter quindi vi registrate l'indirizzo avrete accesso ad un prezzo scontato e soprattutto a una priorità nella lista d'attesa io spero che il video vi sia piaciuto mettete solo un bel like mi raccomando state sincronizzati iscrivetevi al canale perché non posso dirvi nulla ma avremo altre sorprese a breve termine io vi ringrazio vi saluto ciao alla prossima da massi d'attoli